Vicenza. Sono operativi ad Amatrice i nove vigili del fuoco che nelle scorse ore hanno dato il cambio insieme ad altri 31 operatori di Padova e Treviso ai colleghi della colonna mobile della regione Veneto. L'attività dei pompieri della provincia di Vicenza consisterà nel recupero di beni. Fino a questo momento le squadre venete sono state impegnate nel recupero di oltre 50 opere d'arte dal museo civico di Amatrice Cola Filotesio realizzato all'interno di un'ex chiesa del 1300. Grazie.